Sono Achille Piccinelli Magnocavallo e ho la sede notarile a Brescia, notai in Brescia. Sono cliente di OASistemi dall'inizio della mia attività lavorativa, stiamo parlando del 2013, e ho, diciamo, fino all'anno scorso, fino al 31-12-2021, utilizzato Suite Notaro con la versione Sass. Durante gli anni 2018-2019 sono entrato in contatto con il mondo di NotaiUnext durante una delle presentazioni che fecero per i giovani notai a Milano e fin da subito mi resi conto che era uno strumento diverso da quelli che avevo visto fino a quel momento, non solo all'interno del mondo OA, ma anche nelle altre case software. E mi piacque molto la sua duttilità e il fatto che fosse super user-friendly. Da qualche mese ormai utilizzo il nuovo software, col quale, dico subito, mi trovo molto bene e che ha confermato in qualche modo le aspettative che mi ero fatto nelle presentazioni a cui ho partecipato. C'è la necessità che lo staff e il notaio abbiano la voglia di cogliere l'opportunità che un cambio software dà, che non è solo la possibilità fondamentale, poi magari trovo veramente qualcosa su questo, di avere uno strumento più performante, ma diventa anche il modo e il momento per concepire il workflow e l'attività dello studio notarile. Quindi diciamo che attualmente nel mio studio siamo 7-8 persone che lavoriamo nelle due sedi, utilizzano il software in tutte le sue moduli, compreso il controllo, compreso la contabilità, compreso ADG, che devo dire la verità sto ancora cercando di scoprire giorno dopo giorno, perché le cose nuove sono veramente tante, le funzioni sono interessanti ma bisogna studiarle. Prossimamente implementerò anche gli services in modo da comunicare il software più rapidamente e più efficacemente anche col sito per gestire il flusso di dati fra noi e i clienti e viceversa in maniera più efficiente. Se dovessi in qualche modo dire come è andato il passaggio vorrei innanzitutto sottolineare la professionalità del centro di assistenza, ma anche il software di per sé è sicuramente un altro pianeta rispetto al vecchio. In poche parole potrei dire che è più smart e più flessibile rispetto al vecchio. È più smart perché ha implementato tutte quelle funzioni di intelligenza artificiale a cui noi ormai ci stiamo abituando sui cellulari, in macchina, con gli elettor domestici di casa e che forse dimenticavamo che esistono anche in maniera importante per il lavoro, e anzi principalmente dovrebbero aiutarci sul lavoro. E poi è molto flessibile, cioè ti consente di fare una cosa che io trovavo invece impossibile in suite, cioè di scegliere il tuo modo di lavorare e far sì che sia il software in qualche modo che si adatte alle tue esigenze, non viceversa adattare il flusso di lavoro dello studio sulla base dei moduli predefiniti o delle rigidità del software. Per cui è un software che fa della semplicità di utilizzo e che sto mettendo alla prova proprio in questi giorni, ho una nuova praticante che è entrata da pochi giorni in studio, ma in questa prima settimana è già riuscita semplicemente utilizzando le proprie conoscenze di base e anche una sensibilità che nasce dall'uso del cellulare, da quelle cose lì, per utilizzarlo ovviamente non al 100%, ma per fare quelle funzioni base che sono fondamentali fin dall'inizio. Un'altra cosa che ho apprezzato molto è ad esempio la possibilità di personalizzare vari ambienti del software, cosa che sto cominciando adesso a fare dopo una prima fase di rodaggio, così come la possibilità di integrare questo software con i vari mondi ancora da approfondire, ma con la parte delle visure, degli adempimenti. Gli adempimenti sono fatti molto bene per chi viene dal mondo suite, troverà una grande implementazione di questo aspetto e una facilità di utilizzo non indifferente, e quindi anche una rapidità a livello di tempistiche. Ad esempio, poche settimane dopo aver iniziato a lavorare con il nuovo software, mi ricordo che parlai con la persona che di solito gestisce gli adempimenti chiedendole se aveva bisogno in vista, considerando il nuovo software, quindi la difficoltà di utilizzare un nuovo strumento, se aveva bisogno di qualche ora in più al giorno o alla settimana per poter gestire con calma gli adempimenti che comunque sappiamo quanto sono importanti. E devo dire che la sua risposta mi ha un po' spiazzato, che mi ha detto, no Achille, in realtà sono già a bolla, non ho bisogno di tempo in più, anzi ho visto che negli adempimenti, e questo è vero perché poi l'ho seguita sia sulla parte immobiliare che sulla parte camerale, le tempistiche si sono ridotte, fin da subito non si sono prolungate, allungate. Un'altra cosa interessante del nuovo software è che non abbiamo più i problemi di spazio e di memoria che avevamo sul precedente, perché l'utilizzo delle cartelle condivise fra tutti gli utenti, la disponibilità di una memoria, di una capacità di memorizzazione molto ampia per ogni singolo utente, ha fatto sì che dimenticassimo un po' le problematiche che avevamo in studio prima per la digitalizzazione di tutti i contenuti e quindi lo snellimento anche dell'archivio che ne consegue. Insomma, riassumendo, il cambio di sistema di software in uno studio notarile è sicuramente un trauma per lo studio, per le persone, per i collaboratori e per il notario, però da un lato abbiamo un'assistenza che è molto professionale nel seguirti passo passo, dall'altro abbiamo un sistema che non ha necessità di cambiare gli hardware, io non ho dovuto modificare nulla di quello che avevo già in studio, quindi anche dal punto di vista economico non richiede sforzi particolari. Direi che mi sentirei di consigliare davvero a eventuali colleghi il software perché diventa un acceleratore di lavoro, soprattutto grazie appunto alla sua flessibilità, la sua integrabilità con tutto quello che sono le fasi dell'attività di studio. Ad esempio l'integrazione è molto buona con Argilla che è un prodotto che utilizzavo già prima ma che forse dà il meglio di sé con Next. La videoscrittura sicuramente ha fatto un grande passo avanti essendo appoggiata su una piattaforma che è condivisibile con qualsiasi cliente, qualsiasi consulente senza la necessità e la rigidità di dover cambiare formato, convertire, per errore ogni tanto spedivamo delle bozze che erano non leggibili eccetera eccetera. Oggi invece questi problemi non ci sono più e comunque c'è una facilità di utilizzo in tutti gli ambienti per cui sicuramente sono contento della scelta fatta e maturata nel tempo e anche suggerirei la stessa scelta anche ai colleghi.